Love is God. Live in love. Om Sri Sairam. Benvenuti a Om Yosai. Iniziamo con un bellissimo viaggio di quando ho avuto l'opportunità di diventare uno studente Sai. Il mio momento Om Yosai. Ho sempre sognato di diventare uno studente dell'Istituto degli Studi Superiori Shri Satyassai. Era il periodo in cui ero alla mia decima classe e gli esami prescolastici erano terminati. Avevo richiesto l'iscrizione per l'undicesima e dodicesima classe. Non so quali fossero i suoi piani a quel punto della mia vita, ma in quel periodo non mi arrivava mai la lettera di ammissione. Poi all'undicesima classe riformulai la richiesta e ricevetti un avviso tramite lettera. Venni qui e compresi che lo scritto ricevuto era chiaro. Mi chiamarono anche a colloquio. Essendo uno studente Balvicas, fui in grado di rispondere a molte delle domande. Poi chiesero ai miei genitori, perché sprecare un altro anno dal momento che studia già da almeno un anno? Dissero, puoi venire a ricandidarti ancora in B.com e B.C. Il mio sogno era di fare il B.Tech, così continuai, ma desideravo dal cuore di essere studente. E così nel 2010 mi iscrissi nuovamente per MBA e M.Tech, ma il proposito non si realizzò. Il desiderio era costante, così anche l'ansia. A quel tempo partecipavo a diverse attività di servizio delle organizzazioni satyassai, come Vidya Vahini, ed ero in contatto con moltissimi fratelli e sorelle. E ogni volta che interagivo con loro, il mio desiderio si intensificava e le preghiere continuavano. Pregavo Swami dicendo, ti prego Swami, dammi un'opportunità. Nel 2016 ebbi questa opportunità di essere selezionato nel programma MBA e divenne studente. E quello fu il momento, oh mio sai, della mia vita. Diventare uno studente di SAI. Swami, grazie per questo. E in questi due anni che ho passato nel portale dell'Istituto Jiri Satyassai, all'ostello, al Mandir, all'Istituto, sono accadute moltissime cose. Facevo parte del Dipartimento di Autosufficienza Multimediale e svolgendo quelle attività, ascoltavamo moltissimi discorsi di Swami e creavamo piccoli video. E in uno dei video che ascoltai, Swami stava parlando con il guardiano, che chiese a Swami, Swami, perché i tuoi occhi sono diventati rossi? E Swami disse, no, quello che è successo è dovuto ad un mio errore. Mentre stavo facendo il bagno, il sapone è entrato negli occhi. avevo tenuto il tappo chiuso, ma non l'ho tenuto aperto come fate voi studenti. E non perché sono avaro, ma perché non voglio sprecare acqua. Ed è per questo che il sapone in più è entrato. E per questo si sono arrossati. Quando ho ascoltato questo, letto questo, non riuscivo a controllarmi. E ho ringraziato Swami. Swami, grazie quanto sei attento alle risorse e a tutto il resto. Questa comprensione non è accaduta solo quel giorno quando ascoltai il discorso, ma Swami aveva già piantato tempo addietro i semi. Infatti, tornando indietro quando ero un bambino, quando ero studente Balvikas, studiavo nella scuola Cirissatia Sai dell'Orissa a Kuttak e c'era un insegnante di Balvikas che ci insegnava un'attività molto bella. Ci disse di formare due gruppi. Ad un gruppo fu chiesto di raccogliere degli oggetti utili e all'altro gruppo fu chiesto di raccogliere degli oggetti inutili. E lo facciamo. Io raccolsi alcuni sassolini, foglie secche, fascette e pezzi di carta. E dopo aver parlato con il maestro, egli ci disse che nessuna cosa è inutile. Quello fu un messaggio guida e questo messaggio persistente nella mia adolescenza e divenne uno stile di vita. Quindi, divenne parte dell'iniziativa un tetto ai desideri del non sprecare cibo, del conservare energie, risparmiare i soldi e tutto ciò che siamo abituati a fare. E all'ostello, per esempio, quando si prepara il carro di Ganesha o il concorso per l'altare, utilizziamo ogni cosa in modo conscienzioso. E ogni volta, qualsiasi cosa suami desideri, come ci ha mostrato in vari esempi, come spegnere la luce quando usciva dalla stanza dell'interview, egli ci ricorda che dobbiamo seguire il suo esempio. E questo è diventato un'abitudine per me, una passione. E con il passare del tempo, pian piano è diventata una professione, perché me ne occupo nel campo della sostenibilità e continuo a concentrarmi su di esso. E ringrazio suami per avermi dato questa opportunità. Questo è un segno di gratitudine per Madre Terra, perché qualsiasi risorsa che ci offre dobbiamo utilizzarla in modo appropriato, cosicché ce ne sarà per la prossima generazione futura. E suami non poteva esserci un momento migliore per me, come questo evento del Premabandam in cui tutti noi, fratelli e sorelle, offriamo tutti insieme la nostra gratitudine. A suami. E ringraziamo suami per averci dato questa opportunità e la Madre Terra tutta, perché ci dona le risorse per vivere su questa terra. Grazie. Sairam.